Con possibili nuove restrizioni nel nostro paese destinato a crescere il commercio online, Abruzzo vive in rete, ha avuto un grande successo in questi mesi Laura Bevilacqua e voi ovviamente state pensando a nuove iniziative, avete anche fatto il nuovo sito della vostra associazione per far sì che chi vuole comprare in rete lo possa fare nella massima sicurezza e nel modo migliore. Sì, è stato incrementato, infatti da quando è nata che si chiamava Pescara vive in rete è diventata Abruzzo proprio perché dalle zone limitrofe hanno chiesto di partecipare comprendendone l'utilità in quanto questo strumento affianca le attività specie in questo periodo di grande crisi. Che cosa avete in mente, che cosa state progettando per le prossime settimane, per i prossimi mesi e soprattutto con l'approssimarsi del Natale? Allora, in vista del Natale, in vista anche del rischio che le restrizioni diventino più stringenti per le attività rischiando zone rosse ma già così in zona arancio, abbiamo pensato di essere vicini ai nostri colleghi e ai cittadini sia di Pescara che dell'Interland e non solo permettendo di ampliare la nostra piattaforma e offrendo a tutti una prova gratis di almeno tre mesi per iniziare e cominciare a padronare questo strumento perché il commercio online può diventare l'unico strumento per interagire con i nostri clienti e le attività non devono soffrire oltre misura le necessarie restrizioni che verranno applicate.